E' a 30 anni dalla morte del noto giornalista che il caso Tortora dello scrittore criminologo Luca Steffenoni sarà il centro del nuovo appuntamento targato Associazione Cultura Nazionale, in programma per sabato 6 ottobre alle 17 al Feltrinelli Point di Arezzo. Parliamo con Luca Steffenoni che viene a presentare il libro Il caso Tortora, con la straordinaria partecipazione della nostra amica Francesca Scopelliti che è la compagna di Enzo Tortora, viene a presentare questo libro che è un libro molto completo perché parla del prima e del dopo del caso Tortora, il prima tutto quello che riguardava i pentiti, la magistratura eccetera eccetera, poi il dopo, cioè tutti quei magistrati che come definì Giorgio Bocca un caso di macelleria giudiziaria hanno fatto carriera sulle spalle di Tortora, sul dramma di Tortora. Quindi questa è una cosa che a noi ci sta molto a cuore, è la seconda volta che lo presentiamo sul tema nel giro di tre anni, torna Francesca Scopelliti, una nostra amica, quindi credo che sia un tema molto importante, invito tutti, quindi domani alle ore 17, 17.30 alla Feltrinelli Point per questo nuovo grande libro che è Il caso Tortora di Luca Steffenoni. Noi abbiamo fatto 13 eventi in 7 mesi, quindi già altri due eventi sono stati già fatti, molta partecipazione, siamo andati in streaming su internet in tutto il mondo, addirittura ci hanno scritto da Tenerife, quindi altri grandi eventi ci saranno. Il prossimo evento sarà con Caprarica, volto noto del TG2, che viene a presentare un altro bel libro che è Royal Baby, quindi i bambini delle teste coronate e farà vedere, farà capire alla gente che non è tutto oro quello che luccica.